Benissimo, qui c'è tanta di quella gente però che non riusciremo a vedere più nient'altro, suppongo. Io avevo un'altra sorpresa per voi, che era quella dello zampognaro che mi sono perso. Te lo sei perso? Dov'è lo zampognaro? Ecco qua lo zampognaro con chitarra. È uno stranissimo zampognaro con chitarra, che però la sorpresa è questa, è Rino Gaetano. Ah, Rino Gaetano fa lo zampognaro. Io adesso direi a Rino Gaetano, ciao, ciao Rino. Il complesso dove è? Ah, il complesso non fa niente. Io direi a Rino di salutare il pubblico di Domenica Inna con una canzone e Pippo, sulla canzone di Rino Gaetano, quando vuoi, vi potete riprendere la linea. A fare la canzone? Io pensavo che suonasse la zampogna. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta scotta non la mangio più, Ah, c'è lo zampognaro vero alle spalle? La mattina mi alzo tardi e dormo finché mi va, il caffè me lo porta, il letto due bionde tutù, Ah, Maria, chi mi manca sei tu. La notte vado a ballare! Grazie, grazie a Franco Solfiti, a tutti questi ospiti, al nostro zampognaro eccezionale.